Anche noi abbiamo scelto Rossini TV per pubblicizzare la nostra attività e quindi vi invitiamo a farlo perché troverete delle persone molto professionali, simpatiche, vi troverete davvero bene e sicuramente sarà una bella spinta per la vostra attività a livello pubblicitario. Light Bike Store Pesaro, il tuo punto di riferimento nel ciclismo. Noleggio, vendita e riparazione biciclette, seguici anche sulla nostra pagina Facebook.